3, 2, 1, bello tutti ragazzi, io sono il Solina Santa Fox e siamo tornati all'interno della Minecraft Fox allora l'altra volta ci ho fatto caso solo dopo che avevo chiuso il video ho notato una cosa bellissima, ossia che quando il sole scende lo vediamo direttamente calare all'interno del nostro passaggio ed è fantastico, è una cosa fantastica qui ho finito il primo pezzo del nostro passaggio stavo valutando se farne un'altra parte di qua o se costruire qua una sorta di casa, di rifugio momentaneo perché da questa parte non abbiamo una zona per dormire sì per carità casa nostra è qua dietro però non farebbe neanche male come zona per gli scavi devo mettere qua anche le scalette per salire però mi è successa una piccola cosa per la quale lavoreremo oggi ossia come vedete qua mi è scoppiato un creeper e ha fatto un disastro allucinante cioè guardate voi, cioè un'esplosione di un creeper guardate cosa ha fatto ha tirato via un pezzo di montagna cioè allucinante allora ho detto no, questa volta no adesso mettiamo via due materiali prima di tutto e poi vediamo se abbiamo spazio nell'inventario sì, abbiamo un po' di spazio andiamo a prendere dov'è che ce l'ho? forse qua sotto dovrebbe essere vediamo un po' ce l'ho qua, no dove sono i cactus? da questa parte, sì devo cuocerli però mi sa perché devo fare il colorante verde però sta farm è andata avanti sì, dovrebbe essere andata sì, dai 43 64 forse anche qualcosina di più tira via questo va prendiamocene un paio di stack così siamo convinti e tranquilli allora andiamo a mettere a cuocere subito subito i nostri cactus grazie, è molto gentile grazie, grazie vediamo un attimino a che punto è la nostra fornace ok, la fornace è libera e attiva quindi dovrebbe cuocerceli in un batter d'occhio facciamo cuocere tutti i nostri cactus grazie ciccia lascia anche questi, grazie allora è partita, è partita andiamo a posare un po' di materiale però giustamente abbiamo qua un spazio per la pietra possiamo lasciarla qua della pietra per il momento allora era un lavoro che dovevo fare già da tantissimo tempo e ho sempre rimandato ma a questo punto non si può più rimandare vieni qua allora, prima di tutto la lana mi serve e di qua dovrei averne un bel po', vediamo due stack di torce ci bastano? ma si dai, per il momento si andiamo a raccogliere subito subito poi è notte quindi è il momento perfetto però voglio tenere in mano la spada che forse è una cosa più utile anche perché come vi ho detto l'esplosione del creeper mi ha fatto riflettere molto sull'eventuale fragilità che può avere il mio personaggio all'interno di questo mondo allora, abbiamo finito un attimino qua con quel colorante uno cinquantasette non erano due stack allora, vediamo un po' dai cicci però, eh ok, allora ha già finito di cuocerli ah, sono tutte qua a cuocere va bene, per adesso possono bastare fatemi fermare questa ok, allora prepariamoci subito subito la lana verde io direi che quanta ne possiamo fare per adesso? no, non era così? era così? ok mmm quanta ne possiamo? uno stack intero finiamo, finiamo lo stack dai finiamo lo stack 58 pezzi va benissimo va benissimo allora adesso devo fare i tappetini com'erano i tappetini? da due? ok forse sono un po' troppi quelli che ho creato vediamo uno stack abbiamo due stack di top vabbè no uno è 24 non è neanche tantissimo eh ammettiamolo allora lavoriamo effettivamente di notte perché è rischioso ma va fatto quello che volevo fare io era questo effettivamente vi farò vedere allora tiriamo via un pezzo di terra torcia e tappetino e secondo me così va più che bene via questo via pezzo oh cavolo no questo è casa qua non si può fare allora tira via questo tira via questo lì c'è casa la mettiamo qui un pezzo di terra uno qua torcia e tappetino almeno iniziamo a illuminare anche noi questa zona lì c'è una volpe va benissimo via via torcia e tappetino in modo che illumina tutto quanto ci dà più possibilità di sopravvivenza qua eh perché se no ogni volta senza le luci qua mi spawnano dei creeper e mi fanno un male allucinante ma le volpi sembra che più o meno si stiano anche abituando alla mia presenza qua c'era anche la luce cioè vedete allora torcia e tappetino tutto questo lavoro poi andrà rifatto piano piano in tutto il mondo quindi dovrò perdere un sacco un sacco di tempo ma sarà dedicato comunque sia a un miglioramento del mondo questo cosa vuol dire che noi potremmo eliminare tutta la visuale di quelle torce bruttissime in giro e lasciare effettivamente tutto questo dove poi non possiamo neanche caderci dentro il che va benissimo allora vediamo anche qua vedi giù grazie direi che già sta uscendo un bel lavoro sì 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 qua in mezzo lo vogliamo fare sì tanto non si vede ma tranquillo che servirà allora questo può sparire qui noi aggiungiamo due pezzi di terra tu vieni via torcia e tappetino ok effettivamente già voi immaginate tutte queste torce che si vedono in giro fra poco non si vedranno più lì già va molto meglio tipo qua ecco per farvi capire facciamolo qua di fianco torcia tappetino e va va benissimo vedete qua non si vede ok c'è problema torcia tappetino e via tanto con il muschio quando uno mette il muschio alla fine esce lo stesso più o meno lo stesso lavoro non sarà il massimo da vedere non sarà la tonalità di verde top ma che ci frega l'importante è avere un mondo illuminato pulito perché effettivamente non abbiamo tutte queste torce in giro che effettivamente lo rendono un po' più sporco ecco adesso il lavoro diventerà un po' più difficile perché è giorno però più o meno abbiamo capito quello che dobbiamo fare questo si farà per recuperare tutte queste brutte torce messe in giro che non sono il massimo da vedere tipo qua ok e andremo a migliorare tutto il nostro mondo cioè è un lavoro che volevo fare da tantissimo tempo non so perché non l'ho mai fatto vedete si può usare anche il mezzo per cambiare un po' la texturizzazione della nostra passeggiatina quindi tanta roba no tu vieni fuori te dopo devi andarla ok quindi anche qua adesso non vedo l'ora io continuo con il lavoro aspettiamo la notte e vediamo un attimino che risultato iniziale può esserci spero che esca effettivamente il risultato che mi aspetto però già vedete che se qua in giro non vediamo più tutte queste torce è già una cosa secondo me bellissima ecco forse qua su non ci ho pensato qua su lo dovevo fare comunque ci vediamo tra poco allora ci siamo quasi signori ormai è notte io stavo finendo qualche lavorettino qua intorno anche davanti casa cioè davanti casa davanti alla prima prima seconda insomma una delle tante case che ci eravamo creati per rendere anche già questa zona un attimino più bella alla vista vedete già adesso senza più torce oddio qua si vede quindi dovrei lavorare qua di fianco e chiuderlo col blocco di terra giustamente se no si vede però vabbè è il minimo dei problemi questo è il minimo dei problemi un po' di attenzione e va tutto e che cavolo e va tutto benissimo ok ok vedete ci piace ci piace anche perché non abbiamo più cose a vista però adesso mi sto rendendo conto anche di questo pezzo qua è per questo che purtroppo come lavoro va fatto di notte in modo che uno si può rendere conto un attimino di com'è la zona circostante allora anche qua abbiamo fatto qui vedete secondo noi è un po' buio non è un problema insomma c'è sotto una grotta ma come ho scavato qua devo guardare un attimino quella grotta di là però già è molto più accettabile rispetto a prima cioè guardate ragazzi non ci sono più tutte quelle torce in giro che erano inguardabili eppure ci sono anzi forse ne ho messa qualcuna in più rispetto a prima è molto più accettabile come lavoro ma anche qua uno qui ho uno qui perché casomai qui non sapevo dove metterlo adesso mi è rimasto solamente un blocco di di lana ma va bene cioè ci sta signori e adesso vediamo effettivamente questa montagna qua che già è un attimino più vivibile sì dai è molto più vivibile rispetto a prima cioè guardate qua che caspita mi aveva fatto quel creeper che cavolo mi ha fatto non mi aveva mi ha fatto ok là sopra c'è sempre la nostra volpina vogliamo farci un giro facciamoci un giro io qua di solito trovavo dei creeper per quello avevo messo anche le lanterne invece adesso casomai apporterò qualche altra torcia in più ma già la cosa è molto molto più bella devo dire la verità e poi senza tutte quelle torce in giro io mio volpe mi hai fatto spaventare adesso provate a immaginare tutta quella zona non casomai senza più quei puntini delle torce che si vedono in giro ma la zona effettivamente illuminata cioè secondo me c'è una cosa fighissima ci metterò tantissimo tempo a farlo sì ma piano piano tra un video e l'altro lo si può fare adesso voglio solo vedere anche qua vedete perché avevo lavorato anche questa zona eventualmente dovrò metterne un'altra anche qua poco ma sicuro dovrò metterne qualcuna anche da queste parti però perché effettivamente ci serve cioè se vogliamo evitare lo spawn selvaggio di mob questo ci serve e poi vediamo un po' qui sicuro qui anche allora qua non sono andato troppo avanti perché come vi dicevo volevo creare qua una sorta di casa guardate che figata sì ce ne vogliono un po' di più vogliono più torce del normale cioè ne metto una qua affatto almeno così mi sembra però va bene non è un problema qua volevo creare come vi dicevo una sorta di casetta di appoggio lasceremo questi sotto va bene e va benissimo va benissimo anzi questa toglila recupera subito ok direi che va bene va bene ho provveduto nel frattempo con un po' di terra che ho raccolto poi qua anche allargheremo il passaggio eccolo qua a iniziare a riempire questa zona che è stata praticamente martoriata da dei creeper in esplosione questa zona andrà riportata un po' a livello in modo che avremo anche un altro passaggio da questa parte vedete che ci dovrebbe portare di qua si al nostro ponte ho provveduto anche di qua a mettere delle torcette come avete già nascoste questa ancora no perché se no qua sotto oddio posso già mettermela si posso già mettermela poi casomai girando per il mio mondo quando le vedo queste buche le vado a riempire questa zona va riempita però vedete qua sopra fantastico fantastico sperando che effettivamente almeno qua sotto casa non avrò più uno spawn di creeper che mi esplodono in testa ogni volta che passo ma ragazzi io direi che per questo video può bastare se avete sempre consigli per migliorare il mondo che altro fatemelo sapere nei commenti nel frattempo io vi saluto con questo è tutto alla prossima grazie